I prezzi salgono e il potere d'acquisto continua a ridursi. Anche in provincia di Ragusa la situazione è problematica, lo afferma Confcommercio che sottolinea come nel 2022 la consistente crescita dei prezzi ha determinato una contrazione dell'1,6% del potere d'acquisto delle famiglie, il reddito disponibile espresso in termini reali. La dinamica più sostenuta della spesa per consumi finali delle famiglie, più 12,6% rispetto al reddito disponibile, ha generato una flessione della quota di reddito destinata al risparmio. La propensione al risparmio delle famiglie è infatti passata dal 13,8% del 2021 all'8% del 2022, riportandosi ai livelli del periodo antecedente alla crisi. Un altro aspetto è legato al fatto che le imposte correnti hanno registrato un aumento dell'1,9% rispetto al 2021. La crescita del 4% dell'IRPEF è stata in parte compensata dalla flessione delle ritenute sui redditi da capitale sul risparmio gestito, meno 40,1%. I contributi sociali versati dalle famiglie sono cresciuti nel complesso del 5,9%. Le nuove misure relative agli assegni familiari hanno compensato la riduzione del bonus 80 euro. Purtroppo, spiega il presidente provinciale Gianluca Manenti, anche in provincia di Ragusa ci troviamo nella classica situazione del cane che continua a mordersi la coda. Dobbiamo cercare di uscire fuori da questo loop economico infinito, è necessario studiare nuove prospettive e prefigurare soluzioni differenti dal solito anche per una provincia piccola come la nostra.